A Sinferopoli il nostro corrispondente Sergio Cantone ha incontrato Leonid Slutsky, capo della squadra di osservatori russi al referendum. Secondo questo deputato del Partito Liberal Democratico, nazionalista di destra, la Crimea sarà ricordata come il luogo in cui la Russia ha messo fine al sogno degli Stati Uniti di creare un mondo unipolare. Siamo pronti alle critiche che ci saranno mosse a livello internazionale, abbiamo vissuto la stessa cosa quando abbiamo ristabilito l'ordine costituzionale in Cecenia e quando abbiamo riconosciuto l'indipendenza di Abkhazia e Ossetia del Sud. La Crimea si esprime liberamente in base al diritto all'autodeterminazione. Slutsky ribadisce la posizione ufficiale di Mosca, che non prende in considerazione un'invasione ma vuole proteggere i diritti dei russofoni nelle regioni orientali dell'Ucraina. La Russia sosterrà la pace internazionale e interreligiosa sul territorio della sorella Ucraina. La cosa più importante è che non ci sarà lo spargimento di sangue. Queste regioni devono restare in Ucraina, ma il russo deve essere riconosciuto come lingua regionale, come stabilito nel 2012. Dopo la destituzione di Yanukovic, il Parlamento ucraino ha votato a favore dell'abrogazione della legge del 2012, che riconosce anche il russo come lingua ufficiale in alcune regioni, ma il presidente Turchinov si è rifiutato di dare il proprio avallo.